Musica A Mirabella in Baccari, residenti e proprietari terrieri di una strada rurale di Contrada in Certi, hanno chiesto all'amministrazione comunale di intervenire per mettere in sicurezza un muro pericolante che si è posato sul ciglio stradale. Il muro di protezione fu realizzato anni addietro dagli operai di un cantiere scuola. Allora, quello che chiediamo noi è che l'amministrazione comunale intervenga o faccia qualcosa per almeno liberare la strada da questo macello che c'è qui, perché quando le macchine scendono e salgono, qui si restringe, c'è anche il pericolo che qualcuno qualche giorno si faccia anche male, perché qua ci abitiamo. Il problema di fondo per i proprietari terrieri di questa zona rurale che in parte è abitata stabilmente tutto l'anno è che le attese perdurano da almeno tre anni. Gli abitanti non chiedono la costruzione di una grande muraglia, ma un semplice intervento di messa in sicurezza. Che io sappia qua sarà un tre anni, tre anni e mezzo che è giusta roba questo moretto qui che se ne è sceso. Questo qui è un moretto della scuola cantiere fatto.